Sospese le lezioni anche per studenti disabili e con bisogni educativi speciali al liceo artistico Piero della Francesca, una decisione, una posizione che secondo il dirigente scolastico Luciano Tagliaferri è assolutamente corretta e aderente alla norma, fortemente contestata invece da alcuni genitori. Gli studenti con disabilità e BES bisogni educativi speciali al liceo artistico coreutico e delle scienze applicate sono circa 300. La didattica è in presenza anche in caso di zona rossa come è la provincia di Arezzo è prevista per legge secondo il dpcm dello scorso 2 marzo ma non è obbligatoria. L'inclusione è quando non quando i ragazzi con disabilità o BES stanno tra di loro ma quando stanno con i compagni di classe. In questo modo io dovrei far venire a scuola minimo una media di 800-900 ragazzi al giorno su 1250. Il prefetto ci dirà se questo è compatibile. Altri dirigenti scolastici hanno fatto scelte diverse i ragazzi disabili sono in presenza. È una scelta delle scuole e è una scelta ma ripeto siccome il dpcm è scritto in italiano e le note dei capi dipartimento dei direttori generali sono scritte in italiano. Gli altri dirigenti non conoscono l'italiano? I miei colleghi no 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 i miei i miei colleghi fanno quello che ritengono opportuno. Sulla vicenda è intervenuta anche la garante dei disabili per il comune di Arezzo Faustina Bertollo. Non si tratta di una scelta personale si tratta proprio di un diritto negato quindi il diritto negato loro non si possono difendere qualcuno li deve difendere e quindi io mi sento in dovere moralmente di difenderli. Grazie.